Noi uscivamo in Italia da una campagna elettorale nella quale si raccontava che se Fratelli d'Italia avesse guidato il governo sarebbe accaduto di tutto nella nostra economia, che l'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale, che i mercati sarebbero stati terrorizzati, che il nostro sistema sociale non avrebbe retto, che avremmo avuto enormi problemi. Oggi sono passati otto mesi e noi abbiamo un'Italia obiettivamente rispettata a livello internazionale, nonostante la capacità che ha di difendere i suoi interessi nazionali, e abbiamo dati che economicamente raccontano di un'Italia che cresce più della Francia e della Germania, un'Italia che ha raggiunto il suo record storico di numero di occupati, di contratti stabili, record minimo di disoccupazione e una tranquillità che è data dalla serietà che questo governo sta dimostrando. Allora governare ci consente di raccontare quanto sia falsa interessata una certa narrazione, però la speranza che io spero possa, diciamo, propagarsi è relativa alla storia di Fratelli d'Italia. Per i Fratelli d'Italia è un partito che quando è nato, da quando è nato è stato dato per spacciato. Nessuno credeva mai, non solo che noi potessimo arrivare a guidare il governo, ma che noi potessimo mai essere, diciamo, indispensabili per formare un governo. Noi abbiamo, come dire, disatteso tutti i pronostici e lo abbiamo fatto senza avere particolari risorse da spendere, lo abbiamo fatto senza avere molti amici, lo abbiamo fatto semplicemente con la forza delle nostre idee, con la forza della coerenza, con la forza del realismo, perché il punto è che mentre il campo della sinistra è il campo dell'utopia, il campo del reale è il campo dei conservatori. E questa è la ragione per la quale i conservatori riescono meglio a comprendere i problemi dei cittadini e ad affrontare quei problemi, perché non vivono il mondo come vorrebbero che fosse, vivono il mondo com'è.